Musica Che si appresta qui a tirare in porta Palla deviata da Ernesto Borrello Quindi calcio d'angolo Assegna l'arbitro Sandro Stanziano Batte ravvicinato Anzi no Stefano Lanza Si appresta a battere questo calcio d'angolo Da destra in area Il portiere che adesso è uscito Perché Maurizio Russo Debilitato Si è stato costretto ad andare tra i pali Quindi fallo laterale Lettieri verso Variale Si gira con la palla alta sulla traversa E quindi si ripartirà Da un calcio dal fondo Maurizio Russo Il portiere improvvisato Passa al suo ex compagno di porta Batte proprio lui Il portiere Barberi Machiavelli sul pallone Ancora lui Cerca la sponda verso Ernesto Borrello Si chiude il triangolo Machiavelli col suo grande sinistro Non riesce però a controllare Non riesce a controllare Peccato Lui che è dotato di un grandissimo Tiro Vediamo ancora lui Però ci prova A giro Abbiamo appena detto E lui ci ha smentito Alla grande Quindi fondo Per il portiere dei Blue Angels Che rilancia Sulla fascia sinistra Per Daniele Lettieri Il rilancio lungo Cercare la sponda di Variale Ancora lui Però perde il pallone Lo guadagna L'attacco dei Barberi Maglia rossa Ancora loro Palla ancora Parata dal portiere Probabilmente questa parata Era più semplice Del previsto Però comunque Ottimo intervento L'importante è che Sempre che Avalla non finisca In rete Machiavelli Carica il sinistro Ci prova Da lontano Stasera è meno caldo Delle altre volte Nonostante il primo tempo Ci ha regalato una grande Sforbiciata Di pochissimo al lato Pallo di mani Di Machiavelli L'arbitro lascia Battere veloce Senza intervenire Con i cartellini Valerio Variale Con Liguri Non arriva il pallone Si ferma Variale Fa ripartire Barberi 3 contro 2 Il finta Del laterale destro Ancora Barberi Finta contro finta E questa volta Un grandissimo Intervento del numero 20 Il portiere Del Blue Angels E quindi Calcio d'angolo Ancora Barberi Lottano sul pallone Subisce fallo Stefano Lanza Si dibatte un po' Sulla rimessa E quindi Si batte E si riprenderà Dal calcio d'angolo A favore Del Blue Angels Valerio Variale Fa partire Livio Licuria Palla è lunghissima Ci arriva Livio Palla alta Non può fare Altrimenti E quindi Fondo Riparte veloce Maurizio Russo Ci provano a staccare Variale E Machiavelli Ma la palla Arriva tra le mani Del portiere Quindi Si ripartirà Dal Livio Licuri Sulla fascia sinistra Vediamo Ancora lui Entra nel cerchio Centrocampo Cerca di passare Stefano Lanza Non riesce A far uscire Non far uscire Il pallone Arriva sui piedi Valerio Variale Scambia con Lanza Pallone Troppo arretrato Infatti il compagno Se la prende Col suo Collega D'attacco E fa ripartire Quindi Barberi Tutti in attacco Cinque contro tre Se passano la palla Raso terra Possono arrivare Sicuramente In porta Vista la netta Superiorità numerica Ancora Il portiere Calcia E guadagna La palla Fondo Il portiere Avversario Dei Blue Angels Palla di nuovo Dall'altro lato Per Maurizio Russo Che rilancia subito Verso Machiavelli Gamba tesa Probabilmente Anzi anticipa Il giocatore Dei Blue Angels E quindi Calcio d'angolo Calcio d'angolo Valerio Variale Ancora lui Palla sul fondo E Chiudiamo qui Il collegamento Grazie